Non riesce al Real Sant'Agata il colpo di fermare la capolista Belvedere e di tentare di inserirsi nella zona dei play-off. Un 1-2 che consente alla squadra del Belvedere di mantenere la testa della classifica e i punti di vantaggio sulla seconda, la Rossanese, quindi 6 punti di vantaggio sulla Rossanese e quindi di guardare un po' con più serenità al futuro dopo il momento che era culminato con la sconfitta interna contro la Juvenilia. Due vittorie consecutive in trasferta e riportano quindi la squadra del Belvedere a guardare certamente alla parte finale del campionato con più fiducia. Sono di Mandarano i gol del Belvedere, una doppietta in secondo sul rigore dopo che Crispino è riuscito a pareggiare il gol per portare il Real Sant'Agata sull'1-1 dopo ovviamente il vantaggio di cui dicevamo di Mandarano. Però certamente la capolista oggi ha voluto ribadire la sua capacità, la sua forza e di non mettere ancora in subbuglio, in difficoltà diciamo, il suo primo posto. Grazie.